Francesco Calamari, presidente della Locomotive Roma, al termine della sfida di Champions Elite persa per 2-1 contro la CRC. Una partita ben giocata tra l'altro dalla Locomotive che ha avuto le migliori occasioni e non è riuscita a portare a casi tre punti, ottenendo invece purtroppo l'eliminazione dal torneo. Un giudizio quindi su questa partita ma anche sulla competizione. Sulla partita c'è poco da dire. Noi abbiamo provato in tutti i modi a fare la nostra ma alcuni episodi sfortunati non ce l'hanno consentito. Il rigore sbagliato al primo tempo sicuramente ha influito sul risultato finale perché passando in vantaggio in quel momento potevamo avere maggiori chance di vincerla. Però c'è da fare assolutamente i complimenti ai ragazzi perché in questa gara così come nell'intera stagione hanno dato il massimo si sono sempre impegnati al meglio. C'è da fare i complimenti al mister che ci ha guidato in questa stagione, ci ha aiutato anche a crescere sia dal punto di vista del gioco che caratterialmente. Ci manca solo un pochino di fortuna. Se dovesse arrivare quella penso che questa Locomotive potrà dire la sua nel prossimo campionato. Usciamo comunque a testa alta, c'è qualche rammarico per la partita contro l'Alba Roma, forse potevamo fare meglio lì. Quel risultato ci ha un po' condizionato per il passaggio del culo. Grazie.